Per il risultato ufficiale dell'esercitazione, le reclute devono aspettare di rientrare in caserma. A sole ormai tramontato. L'esercizio del pomeriggio non era un esercizio facile. Sicuramente comunque ci sono stati dei risultati migliori per alcuni. La squadra rossa si è mossa genericamente come un branco di cinghiali nel bosco. Sono tutta furtiva là, Don Brider, ti vado in cinghiale Don Brider, a te scusa. Bene invece è andata la squadra gialla, sono stati presi sì, ma nel complesso si è mossa bene. In generale io sono sempre soddisfatta nella mia squadra, siamo sempre stati ordinati, precisi, come sempre. Quella che sicuramente si è mossa meglio, anche perché ha fatto cinque centri, è la squadra blu. Quindi diciamo che al termine la prova è stata vinta dalla squadra blu. Alessandro ha beccato proprio tutti quanti i bersagli, ci siamo mossi come potevamo, abbiamo dato il nostro massimo e abbiamo vinto. Sono felicissimo, sono veramente felice. Grazie a tutti.